Non stavamo scherzando, siamo davvero rimasti dentro questo mondo diverse ore fermi a mangiare Ma adesso stiamo pieni di skill point e conquisteremo il mondo Per fare il woodworking, per fare il bovarde, per fare quel tavolo, per fare gli utensili d'agricoltura Per fare un albero Ci vuole un Sam No, i legni No, era il tavolo E ragazzi, come va? Io sono Ferinichi E sono Stef, questo giochiamo a Echo E siamo tornati su questo meraviglioso gioco Oggi siamo prontissimi Credo, 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 credo Che riusciremo finalmente a coltivare qualcosa Siamo pieni di skill point, quindi penso anche che riusciremo a craftare qualche altro utensile molto utile Utensile molto utile, vabbè, si è capito Ok, ho capito, però voglio farti una domanda Ok che sei rimasta tanti giorni in questo mondo fermo a mangiare Però questa barba te la potevi anche tagliare, cara mia È cresciuta Eh sì, ma Siamo rimasti troppe ore qui fermi a spettare gli skill point e è cresciuta la barba Sei inquietante, è più lunga la barba dei capelli Toglitela immediatamente, ti prego Io non so perché Non ti guardo più in faccia In personaggio donna si può mettere la barba Io la trovo una cosa A di poco Siete andata normale? A di poco geniale Normale, perché non è che sei molto bella anche senza Stai dicendo che sono brutta? Stai dicendo che sono brutta? Di sogno di notte Stai dicendo che sono brutta? Su Yandere Simulator dovrebbero mettere questo personaggio Perché è cento volte più inquietante Comunque io qui, cioè mi voglio lamentare Ok Perché il personaggio uomo è carinissimo È vero Quello donna è proprio un boh Proviamo subito a coltivare Io ho paura Ti lascio l'onore perché tu sei l'addetta alla coltivazione Io ho ben 18 skill point Mi sono davvero davvero impegnata Io ne ho 15 in questo dato momento Allora Vai in agriculture come me Allora un attimino Agriculture abbiamo due scelte Io qui ho un quesito Perché il primo Sì Mi sembra che Che serva per qualcosa Per coltivare Perché se non capisco bene cosa E invece l'altra sezione mi sembra che ti dia L'OE Quindi la zappa Secondo me Il risultato è che li metterei entrambi Perché riguardandolo finalmente non so come ho capito L'ho guardato tipo 10 volte Finalmente forse ho capito Questo ci sblocca il farmer's table Quindi un altro tavolo ancora Che sicuramente servirà Ok A craftare gli utensili che impari tramite il farming tools Perché i farming tools sarebbero Diciamo gli utensili Per l'agricoltore E certo Invece questo Sembra il tavolo Per craftare le cose Dall'agricoltore Quale vado per primo Dai dimmi una Prima gli utensili Quindi questo Il secondo Vado Ok Ti ha dato qualcosa No Le difficoltà come sempre Non finiscono mai Allora Calma il sangue freddo Ce la possiamo fare Spiego Sì vai Avevo ragione Doveva mettere anche l'altro Da 5 punti Quindi ha già utilizzato Altri 10 punti Adesso deve craftare Il farmer's table Che costa 40 board E 10 di terra A quel punto lo mettiamo E da lì potrà craftare gli utensili Per l'agricoltura Lo spero Lo spero Il farmer's table chiede i board I board si craftano Con la legna Con la legna normale Per fortuna Uno di legna da due board No C'è un altro problema Che è combinato? Ci serve il woodworking Per fare i board No aspetta Allora Woodworking Sì Quindi all'altra parte Qua non c'è nulla No dobbiamo Dobbiamo crearlo credo E per crearlo Dobbiamo imparare a farlo credo Aspetta calmati Per fare il woodworking Per fare i board Per fare quel tavolo Per fare gli utensili D'agricoltura Per fare un albero Ci vuole un sem No I legni No era il tavolo Era per fare il tavolo Ci vuole il legno Per fare il legno Ci vuole un albero Per fare un albero Ci vuole un sem Stai impattendo E in questo Allora Calmi tu No ce la possiamo fare Quindi Siamo persone intelligenti Che sanno spiegare bene le cose Ce la possiamo fare Allora Quindi adesso fai sto carpring tree Sì Non si dice così book Ok Così poi insegni le cose anche a me E non ho bisogno di spendere altri punti Esattamente Così come io ti ho insegnato Le abilità da agricoltore Sì perché questa cosa è bellissima Uno dei due spende dei punti Per imparare a fare un libro Però poi può condividere Le sue conoscenze con l'altro Perché anche nella realtà è così Uno ti può insegnare le cose E di conseguenza Le impariamo tutti e due Questa è una figata È una bellissima cooperazione Comunque ci costa 30 di legna Per fortuna che Tra un episodio e l'altro Oltre agli skill points Ci siamo preparati un po' di materiali Tanto avevamo già immaginato Che sarebbe andata male In qualunque modo possibile Sì assolutamente Quindi siamo prontissimi Mettiamo a craftare questo book E dobbiamo aspettare Cinque minuti Ok Per la felicità Di tutti noi Guardami Ok Guardami Sì ti sto guardando Dimmi sei felice Sono triste Stai sorridendo No sono triste Che bel sorriso che hai Mi rimetto la barba Se mi prendi in giro No Avrà finito secondo te Eh non mi ricordo quanto è passato Controllo Sì è finito È finito È finito Allora quindi a questo punto Devo fare tasto destro Tasto destro Ti dai foglietti Ok Dove Te l'ho messa da qualche parte Sì 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 la vedi Guardi gli skill points Ah non stavo guardando Devi andare Ok A fianco ad agriculture Perfetto Perfetto Adesso Noi prendiamo Noi prendiamo Cioè prendo io L'ep 1 L'ep 1 Il punto 1 Mi sta disurgendo il cervello Questo gioco Però è fantastico E infatti impara a fare i board Ok Ok board Bookshare Quindi a questo punto Secondo me Se io torno qua Possiamo craftare il Ma hai visto una cosa? Woodworking Per favore Non mi interrompere Devo dire una cosa importantissima Dimmi Puoi arrivare a fare le porte Il soffitto Le finestre Amica mia No ma questo me lo imparo pure io Secondo te rimanevamo rurali A non fare nulla Me lo imparo pure io Questo perché voglio costruire Nella nostra casettina Fallo dopo Per ora ti metti i punti Per emergenze Ok Ok vai Quindi adesso i board Li posso fare da qua Quanti erano? 20? 20 di legna 40 board Ok Sì Li ho messi a craftare Perfetto Vedi Stiamo ingranando Stiamo iniziando a capire tutto E ti dirò All'inizio il crafting Mi sembrava un po' confusionario Ma secondo me Io lo sto adorando Sta acquistando il suo senso E lo sto adorando Perché è proprio super realistico Cioè fantastico È bellissimo Mi sono mangiato una bistecca Senza dirtelo No dai Eh sì Era l'ultima Perché non mi hai dato una bistecca? Una bistecca di coniglio Molto buona Perché non mi hai dato una bistecca? Non mi guardare male Dai che sto facendo cose importanti Ti vedo Lasciami in pace Sto craftando Ed è importante Abbiamo i board Vai Abbiamo i board Abbiamo la terra Quindi 5 minuti E abbiamo il nostro tavolo Da agricoltori Guarda io non so quanti minuti Stiamo all'aspettacqua Tra un craft e l'altro Però Eh Ci sta Ci sta Siamo andati a prenderci un po' di legna E ci sono i lupi Che ancora voi non avete visto Sono sbucati da poco nella foresta Sono apparsi da poco E sai che sono diventati due Ma davvero Oh guardalo uno Si stanno inseguendo tra di loro Adesso vediamo se riusciamo a farvi vedere meglio Purtroppo Poi fino a ieri ce n'era solo uno Scappano tantissimo Ce n'era solo uno Si è sbucato ieri il primo E adesso si stanno già moltiplicando Per fortuna non attaccano gli altri animali Sono abbastanza pacifici Ed è una roba meravigliosa Eccolo 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 Guardate Ce ne sono due Una a destra E una a sinistra Che bello Sono giganti E bellissimi Sono giganti Quanta gente c'è Stanno tutti scappando da noi poverini Si esatto Siamo noi il problema Non loro Non i lupi Siamo noi i lupi Oh sto affondando Ma è meraviglioso Che bello Ma è bellissimo Che poi sembra una sorta di macete Allora Eh sai che abbiamo un problema Aspetta Si Hai letto Si No io non ci credo Praticamente non possiamo mettere E comunque guarda Guarda il craft Si può fare tutto qua Avevi ragione E costa pochissimo Non ci credo Allora Come facciamo Cioè Praticamente ci sta Facciamo una cameretta Se facciamo una cameretta Secondo te funziona Eh dipende 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 C'è scritto Perché ti dice Che la stanza deve essere Grande un tot E avere un tot di legna E quanto è grande questa Di qui una stanzettina piccolina Sondiamo un po' Ok Ok Poco però è poco Ci spero poco Però abbiamo fatto una stanzina piccolina Dove teoricamente No certo Non possiamo mica Fare una villa adesso Cioè dai Penso vada bene Vediamo un po' Ti prego Dimi che va bene No E se chiudiamo? No 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 Io non ci credo Io me ne Che è successo? Che è successo? Non leggo La stanza non è abbastanza grande E di volume Da 24 Serve da 25 La fortuna di Steff E per i Niki È sempre gigantesca Io adesso Spacco qualcosa Allora Calmo Se allarghiamo da qui Secondo te ci sta Ce l'abbiamo fatta Ce l'abbiamo fatta È diventata leggermente più grande E adesso Ti va bene Finalmente Tavolino Siamo io e te Alleluia Due anni e mezzo Per imparare a coltivare Ma è bello così Ok Devo pure fare i board I board comunque sarebbero delle Mi viene planks Delle asti di legno Delle asti di legno È il legno lavorato Brava È il legno lavorato Brava Non mi veniva E parlando parlando Ho creato delle frecce Invece che delle asti di legno Bravo Steph Complimenti Ai 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 Per fortuna che ho lo stesso Tutti i materiali Stiamo pronti a creare la zappa Tu sei pronta a seminare? Sì Finalmente Non vedo l'ora Non aspetto altro Cavolo Vai Veloce Non c'è niente da ridere qui Allora Aspetto da una vita Crafting Vai È il tuo momento Io non posso farlo Penso se vorrei fare altro Io non posso farlo Tu pensa che possiamo fare i pannelli solari in questo gioco Tu No Cinque minuti Ma perché cinque Ma lo fai apposta Ma va Almeno quel suo Il sampler Per vedere se il terreno è giusto Ce l'hai già Almeno quello Ce l'hanno regalato E sono stati magnanimi Giusto per una cosa L'unica buona notizia Facciamo una roba bella Che facciamo vedere i consulini Ok Ok Mi metto il punto Che su survival Mi migliora il fuoco Ok E facciamo il campfire numero due Eh Sì Bello Credo Sì lo voglio Spero che sia E quello dovrebbe essere il numero due Allora Quindi teoricamente Io adesso prendo la carne di cervo Che avevo Prontamente cacciato Perché io sono Il cacciatore provetto Che tutti hanno fatto l'hashtag Sì ho notato Ho notato E vediamo Se così Me lo fa cucinare Perché se ce lo fa cucinare Abbiamo un sacco di carne Per un po' di tempo Sette bistecone ci dà Stiamo registrando Perché voglio farlo vedere Che sono le 19.24 di sabato Perché vogliamo far uscire di nuovo Il video anche domenica Domani E in questo momento Il video che è uscito Oggi stesso Di Echo Che è uscito alle 14 Quindi sono le 19 Quindi in 5 ore e mezzo È a 19.000 views Incredibile Ditemi cosa vi dobbiamo dire Perché È fuori di testa ragazzi Un risultato del genere Che bello Che piace anche a voi Questo gioco Totalmente il record di visualizzazioni Ma a parte le visualizzazioni Cioè Siamo felicissimi No sai qual è la cosa Che mi piace di più È che ad esempio Quando io sono felicissima Di portare un gioco Anzi quando noi Loro sono felici di vederlo Loro sono felici di vederlo E quindi abbiamo tutti gli stessi gusti Sembra proprio che siamo tutti uguali Capito Infatti è fantastico questo Perché dico Cavola Allora non è che piace solo a me Non è che sto impazzendo solo io Sono così felice Che salto e sbatto la testa Tutto il tempo Bacchiamo la testa Dalla felicità Però È il momento È il momento di farlo Hai la zappa Prendila Proviamoci Di sapere se Ferenichi Finalmente diventerà un agricoltore Io lo spero Questa serie chiude Quando riusciremo a seminare Secondo me Perché Secondo me è finita così Ormai non ci spero più La vedi la terra? Sì Vado Zappo tutto Ok Io sto zappando Allora Semini Allora Ne abbiamo Quali si piantano qua però? Vabbè più o meno quelli che crescono nella nostra zona Ferma Ferma Metti il tuo bellissimo utensile Dimmi che bioma considera nell'erba Lo considera foresta? Lo metto in questo Sì Qua non me lo dice Vediamo questo Non me lo dice il bioma Davvero? Mi dice che è un blocco di terra Mi dice la temperatura Ok La probabilità che piove Tutte queste cose Ok Quanto rimane il sole In questo blocco di terra Che mi dà il 30% Credo Non lo so Però non mi dice che bioma è Allora La nostra non è il bioma della foresta Ma del grassland Che sarebbe la pianura In effetti sì Perché io quando la controllavo Mi diceva blocco di terra Esatto Di conseguenza Noi possiamo piantare I beet seed Che sono alberi I corn seed Che dovrebbero essere il mais E il wheat seed Che è il grano Cosa stai piantando tu? Quello che dovrebbe essere di albero Personalmente Ho poca fiducia In questa piantagione Allora abbiamo Cosa abbiamo piantato? Abbiamo piantato Del mais E del grano Secondo me Non crescerà mai Abbiamo anche provato Provato a piantare un albero Ma l'abbiamo ucciso Istantaneamente Proprio Quindi Allora Dice che ci mette 24 ore Credo che sia della nostra vita reale E non Del gioco Non ne ho idea Non ne ho idea Lo scopriamo tipo Lasciando il gioco aperto un'ora Ci chiariamo subito tutti i dubbi E volevo dirti Secondo me andrà male Però è un primo esperimento Che ci permette di capire Vabbè scusa Dobbiamo capire queste cose Tanto comunque Grano e mais Ne troviamo tantissimo Esatto Quindi mi sembra giusto Provare a fare un esperimento Con le cose giuste E capire se possono crescere In questa terra Dimmi cosa Hai ancora i semi di albero con te? Ce li hai? Sì Tra le tante cose che dovevamo fare Ci siamo fatti anche una bella cesta Perché è ora di mettere le cose nelle cesti Invece che nei tavoli da lavoro Decidi tu dove metterla La possiamo mettere O in questo angolino Sì ci sta Ci sta Ci sta Ci sta Oh Ha promosso subito la mia posizione E dai sì 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 Anche perché qua è un po' vuoto Non potendoci mettere altri tavolini da lavoro Rimane un po' vuoto È bellina eh Sì molto Carina Quanto può contenere Stai zitto Quanto può contenere È parecchio Bella Sì 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 Non è male Indovinate cosa sta cuocendo qui Il nostro bel cervo Sette bistecche Per far felice la nostra nutrizione Io dovevo fame Oggi abbiamo faticato un sacco Tra tagliare alberi Coltivare il mio personaggio È davvero tantissima fame Il mio è a 700 calorie C'è l'acqua di finite No il mio è a 1.3 1.3 però ho capito Inizia a sentire la fame Certo 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 È una brutta notizia Che cosa? È tutto secco qua È già tutto morto? Ma no Ma non è che vuole acqua? Eh può essere No La nostra coltivazione Siamo due episodi Che litighiamo per coltivare E abbiamo già ammazzato Non so quante piante Mi dice che sono morte Le sto controllando tutte Perfetto Non solo non serviva nulla L'acqua Non possiamo neanche rimettere La sabbia qua Non si sa bene per quale motivo Quindi adesso abbiamo Uno proprio fuori casa Delle piante uccise Bene 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 Siamo sempre molto bravi A coltivare Comunque tra un episodio E l'altro Cerchiamo di scoprire Come si innaffiano le piante Se c'è davvero bisogno Di innaffiarle Insomma Cerchiamo di scoprire Tutti i segreti Della coltivazione Dopodiché Utilizzeremo tutti gli skill points Che accumuliamo Tra un episodio e l'altro Per portare avanti Mi sa Il carpentry E iniziare a craftare cose fighe Preparatevi Perché uno dei prossimi obiettivi È il traino piccolino Quello che proprio traini con le mani La carriola Dove mettiamo dietro la carriola No perché la carriola È quella frontale amica mia Ah quella che ti sta dietro Non mi ricordo come si chiama E lì potremo mettere i tronchi Quindi tagliare più alberi E portarci a casa Più materiali Quindi sarà molto figo Da provare anche quello E sarà interessante Però adesso Mangiamoci le bistecche E finiamo questo video Spero che si riesce così Se giusto Scioggi un like E se è la prima volta Che avete il nostro video Potete considerare l'idea Di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao